Nell'incantevole location di Casialborgo, nel quartiere di Santa Maria, da gira con Filippo Mauceri, direttore artistico di Entroterrain Festival, giunto alla seconda edizione, ecco, siamo qui in vista di questo weekend ricco di sorprese, ricco di spettacolo e non solo, grandi artisti, allora come procedono i preparativi? Come vedete qui c'è una quiete, è un relax che aiuta insomma a non prendere troppi affanni o ansie, quindi tutto bene, tutto pronto, gli artisti convocati sono felici di essere presenti a questo festival, a questa seconda edizione e quindi vi invito fin da ora a non mancare a nessuna delle due serate perché saranno complementari, ci sarà un discorso che parte il sabato e si conclude la domenica sera. Subito un cenno a ciò che significa Entroterrain Festival per chi magari non avesse preso parte alla prima edizione, sicuramente è un progetto molto ambizioso per il territorio siciliano. Sì, è un modo per dare corpo a un'idea, cioè quella di conoscere meglio questo territorio, l'entroterra appunto di cui Agira fa parte e quindi quale modo migliore che non, facendo scoprire anche degli artisti e apprezzare delle performance che sono veramente di grande qualità, sono molto orgoglioso insomma anche della scelta del cast di questa edizione. Ecco, a tal proposito tuffiamoci all'interno del cast, anche quest'anno artisti di assoluto valore. Sì, tra l'altro vi rimando appunto alle nostre pagine Facebook di Casialborgo e anche di Entroterra per entrare meglio nel dettaglio, però diciamo che abbiamo alcune conferme come Pietrangelo Buttafuoco con cui ci intratterremo per ragionare e raccontare questo suo nuovo libro, ma non solo, avremo poi anche una bellissima sorpresa, un bellissimo fuori programma con Nino Greco, che sappiamo, è un chitarrista eccezionale, un virtuoso della chitarra, che farà da contrapunto a questo incontro con Pietrangelo. Questo ci tengo a dire perché non era nel programma ed è diventato un fuori programma squisito, una chicca, possiamo usare questo termine, perché lui si sa, non si fa vedere molto spesso. Per il resto, grandi artisti, avremo il Cunto siciliano con Gaspare Balsamo, avremo il grande concerto dei Lautari e daremo spazio anche ai giovani talenti del territorio come Tafalla Square, il sabato e Alessandra Formica la domenica. Non solo musica, così come nella prima edizione, ma anche cinema, vediamo dietro di noi già il video pronto e poi anche la gastronomia. Certo, questo avverrà soprattutto la domenica dove proietteremo l'Orto degli Dei, questo bellissimo film di Giuseppe Calabrese, dove vi sarà anche protagonista Alfio Antico, che qualcuno di voi ricorderà presente nella scorsa edizione e tra l'altro sono in arrivo delle sorprese che ancora non vi posso dire, sapete che poi le mantengo, le sorprese, quindi ve lo dirò nei prossimi giorni. Questo Orto degli Dei è un bellissimo documentario proprio sul rapporto fra terra e uomo, molto bello, che era stato presentato all'Expo di Milano di due anni fa, ma che il regista ha voluto portare rimontato, quindi con una versione un po' più ristretta, molto concentrata, molto forte, da non perdere assolutamente. Ed è un legame molto forte anche con Slow Food che presenterà, come la scorsa edizione, una degustazione dei presidi Slow Food, dei prodotti tipici del nostro territorio. Questo avverrà intorno alle 19.30 di domenica, ma bisogna la prenotare. Naturalmente la prenotazione è un consiglio perché i posti non sono tanti, sono limitati, quindi assicuratevi il vostro posto, diventate appunto amici del festival già da subito, da oggi. Ecco, facciamo una sorta di slogan di Entroterre 2017. Beh, chi non c'è si perde tutto. Grazie. Grazie.